l'interno, non verso l'esterno ciao ragazzi, grazie di essere con me oggi questo sarà un video non richiesto, non super richiesto per super darci richiestissimo e che ho fatto tanto tempo fa in italiano e tanto tempo fa anche in spagnolo ed è un video di coccolo un po' la bambola in particolare acconzature oggi le farò un po' makeover andrò a truccarla leggermente e poi andrò a farle appunto un'acconciatura, pettinarlo poi i capelli nel limite del possibile, nel senso che è un po' ballerina se vi piace questo tipo di video non dimenticatevi mai di leggere un bel mi piace vedete che cade? e vi lasciami anche un commento mi aiuta tanto 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 e sapete che leggo tutti sempre ok, cominciamo un po' con la cura del viso quindi portiamo i capelli indietro iniziamo l'azione iniziamo l'azione iniziamo l'azione ma iniziamo l'azione lasciate mi piace proprio per il supporto perché questa bambolina non mi aiuterà nel corso di questo video per niente allora prima di tutto volevo applicarne una crema vedete che bello vedete che bello il tappi ok fermi questa bambolina si chiama signorita l'avevo chiamata così l'avevo chiesta in un bambino spagnolo prima di mettere la crema però volevo fare un po' di brush un sorriso qui qui soprattutto ok 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 Non sono riuscita a sentire fuori, ma è la speva che può salire, sono circa le 10 e mezza di sera e lei dorme in casa perché è viziata, quindi sta dicendo, oh, mi fate salire sì o no, comincio a sparare il prodotto. Come 어쨌든 fare... Ci sono sedicati, ci sono flotte, ci sono sed CMT, ci sono solTy, ci convergenci, ci sono sol alte, ci sono sol absolute. poi per il viso fanno applicarle un po' di terra da questa palette della solita che sapete che amo qui e dall'altra parte la stessa cosa ovviamente avendo messo la crema risulterà un pozzo incredibile ma ovviamente è più una cosa visuale che altro ecco qua, bellissimo adesso passiamo al blush sorridi quindi ne mettiamo un pochino qua questo blush è molto luminoso un po' di blush un pochino di illuminante qui e dall'altra parte mi amo adesso sugli occhi prendo un colore, il color burro e vado qui sulla palpebra sull'altra ok e adesso prendiamo la terra andiamo a scurire leggermente andiamo dall'altra parte andiamo dall'altra parte ok direi che ho venito ad inferire su questa povera mamma con il trucco cominciamo col parrucco e pettinando le mani e pettinando le mani e pettinando le mani Grazie. Grazie. E cominciamo facendo una semplice attrezza. E approfitto anche per insegnarvi un po' la differenza fra le trezza. Allora, voi probabilmente sapete che la treccia la francese è quella dove tu metti una giocca sopra l'altra. C'è un'altra treccia, semplicissima, con il concetto identico, che si chiama treccia l'andese, che è il contrario. Quindi io metto una giocca sotto l'altra, in questo modo. In questo modo otteniamo appunto una treccia che va verso l'interno e non verso l'esterno. E questa treccia attaccata alla testa risulterà in rilievo, cosa che mi piace tantissimo. E questa si chiama treccia l'andese. Ho un inglese molto più famoso, touch braid. Invece l'attrezzo che fa sono tutti gli soliti, l'attrezzella francese. Guardate che bella è allargata. Le trecce allargate sono sempre bellissime. Guardando qui potete già, insomma, farci una specie di fiore. Allora. Cominciamo ad attaccare la testa. Allora, prendo appunto una gioca iniziale. E l'umore d'acqua che sentite, che spero non vi dia fastidio. Il frigo che ho qui nella stanza. E io l'ho staccato, non so perché faccio questo capire. Ok. Quindi abbiamo queste tre gioche. E cominciamo a metterle una sotto l'altra. In questo modo. Poi, prima di rimetterla sotto quella di mezzo, e la uniamo. Hai i capelli attaccati alla testa? E la mettiamo giù. Questo non è un tutorial, quindi... Se non siete minimamente esperti, probabilmente non capirete, ma... Semplicemente è una lingua natura giusto per farvi un tutorial. Ok. E il procedimento è sempre così, molto semplice. E mettiamo la gioca sotto. Prendiamo i capelli dall'altra parte. E uniamo e mettiamo la gioca sotto. Tutto così. Posete decidere voi, in base alle gioca, se le volete più grandi, più piccole? Se prendere più o meno capelli. Ogni volta. Allora, arrivati a questo punto, ciò che suggerisco io, per il mio gusto assolutamente personale, è allargare le gioche. E allargare le gioche. A me piacciono più larghe. Poi ognuno li vera di far quello che vuole. Prendi i capelli ormai da sotto. Prendi i capelli ormai da sotto. Allora, mi riesco. Manca l'ultima gioca sotto. E la unisco, difendimamente. E qui vi faccio vedere la treccia laterale, perché... Ok. 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 Anche sbagliato. Non sono molto comoda. Ok. Lo semplicemente allargate. E se volete, ad esempio, questa acconciatura si può finire con un raccolto. Così è molto carino. Emplicemente qui andate a usare. Andate a usare delle pinzette. Questa è una specie di rosa. Oppure si può mantenere sciolta. Oppure a me piacciono i piccolini. Una destra e una sinistra. Insomma, dipende molto da voi, da cosa vi piace. E spero davvero che questo video vi sia piaciuto, perché me l'avete richiesto non so quante infinite volte. Purtroppo devono essere messa con voi, ma non è proprio il video più comodo da girare assolutamente. Perché, come vedete, la bamba non sta mai ferma. Quindi, se vi piace questo tipo di video, vi guardate per l'infinito. Adesso continuo un po' a toccare i capelli, mentre vi do il mio stonco e la tua notte. Allora, come vedete, la propria notte è un po' a toccare i capelli, ma non è un po' a toccare i capelli. E' giunta l'ora di abbassare l'erroi e augurarvi una buonanotte. Davvero scusate per il casino che fa il frigorifero, non ha mai fatto questo casino. Purtroppo il mio tempo per girare i video è alquanto limitato in questo periodo. Quindi, ormai più. Buonanotte. 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 spero stiate passando un po' di noi vi auguro di passarlo dedicando il più tempo possibile le cose che vi piacciono vi auguro questo buonanotte, un bacione te li spero